Sì, stiamo arrivando sul mercato europeo con due diverse linee di modelli, quindi innanzitutto le nostre auto ora, che puntano moltissimo sul design, sullo stile di vita, sugli aspetti urbani, ritengo siano molto interessanti, soprattutto per il mercato italiano. Ma d'altra parte stiamo ancora lavorando su auto hybrid plug-in che aiuteranno i clienti italiani a creare un ponte tra il vecchio mondo dei veicoli con motori a combustione e il nuovo mondo dell'elettrificazione. GWM fa molti sforzi per personalizzare e sviluppare i suoi prodotti per le diverse regioni del pianeta. Pertanto per l'Europa i nostri prodotti sono stati progettati e adattati per soddisfare le richieste dei clienti europei. Solo per darti un esempio, ovviamente tutti i nostri regolamenti di sicurezza qui in Europa sono rispettati da questi veicoli. Le nostre auto Wey e Ora hanno entrambe raggiunto le 5 stelle nel crash test Euro NCAP e allo stesso tempo si vede che ad esempio, quando si considera la capacità di traino, su queste vetture è stato sviluppato qualcosa che non è rilevante in Cina, per soddisfare al meglio la domanda europea. Ultimo ma non meno importante, anche il powertrain dei nostri veicoli in Europa è diverso da quello cinese. Cilindrata maggiore per il motore turbo a benzina da 2 litri, ma stiamo anche abbinando a questa vettura un cambio automatico a doppia frizione a 9 velocità, una tecnologia più sofisticata, più costosa e che offrirà un comfort di guida molto migliore rispetto ad esempio ad altre regioni del pianeta. GWM entrerà nel mercato europeo con tre modelli all'inizio del 2024, quindi avremo la GWM Ora 03, la nostra citycar completamente elettrica, la Wey 03 e la Wey 05, due SUV nel segmento degli ibridi plug-in. E poi intorno alla metà del 2024 aggiungeremo un altro veicolo, la GWM Ora 07, una berlina sportiva completamente elettrica, quindi stiamo approfondendo discussioni e conversazioni con potenziali partner per il mercato italiano per lanciare le nostre operazioni in Italia. Non posso fornire alcuna informazione concreta sulla data e sull'ora esatta in questo momento, ma posso dire che noi di GWM crediamo davvero nella potenza di una rete di rivenitori tradizionale con un'ampia copertura nel paese, vogliamo che i potenziali clienti possano toccare, sentire, vedere e provare i nostri veicoli. La sostenibilità è davvero al centro delle operazioni di GWM, vediamo la sostenibilità in modi molto diversi, per noi ad esempio sostenibilità significa avviare partnership a lungo termine e lavorare insieme in modo sostenibile per sviluppare la nostra attività in Europa. Non siamo interessati agli effetti o al successo a breve termine, ma siamo qui per restare, siamo qui per lavorare in modo sostenibile. Ma ovviamente anche in senso più ecologico la sostenibilità è molto importante, stiamo lavorando duramente con i nostri fornitori per ridurre al minimo gli sprechi e il consumo di elettricità. E abbiamo un obiettivo molto chiaro, di diventare completamente neutrale in termini di CO2 entro il 2050. To become fully CO2 neutral by 2050.